I dati di Banca Italia sullo stato dell'economia delle regioni ci dà una nuova mazzata a noi calabresi sì perché se nel 2015 gli stessi dati registravano una ripresa insomma quelli del 2016 ci dicono non vi illudete siete nuovamente in una fase di decrescita pochi segnali di ripresa qualcuno legato al porto di Gioia Tauro perché c'è una ripresa nella movimentazione dei container e poi speriamo che questo accordo sulla ZES riuscirà ad implementare ancora di più qualche cosa tiepida si muove nel turismo per il resto va giù tutto dal lavoro alle imprese e allora poi insomma ci viene da sorridere a leggere altri dati che riguardano il nazionale nei quali si afferma che se non cresce il sud non cresce neanche il paese ben venga però quali sono le politiche per fare crescere il sud e quindi di fare crescere il paese non ne vediamo il patto per il sud e tutte le altre scelte legate alla coesione territoriale di fatto sono lente a tal punto che non producono nulla presidente olivelli io sono convinto che le stia facendo una grande programmazione ma l'andamento diesel che ha dato alla sua giunta alla sua azione di governo non porterà nulla di buono questa regione questo mezzogiorno ha bisogno di terapie d'urto ha bisogno che si creano immediatamente dei fatti concreti che si attivi la spesa su alcuni macro progetti e non la si fremmenti perché si continua a frammentare e si producono fatti economici rilevanti l'azione di un governo energico si misura alla fine quando si conteranno i posti di lavoro creati quando si conteranno le imprese che crescono quando i consumi legati a una maggiore e migliore condizione economica cominceranno a crescere se ciò non avverrà noi in calabria non avremo futuro non avranno i calabresi non avranno i nostri figli per fare questo c'è bisogno di un treno lanciato ad alta velocità presidente oliverio a lei tocca il compito ma anche lei ha il dovere di accelerare questa macchina diversamente tutta l'azione politica e di governo si alimenterà di chiacchiera e di questa chiacchiera la regione calabria ne ha pieno e gli annali e i depositi storici della politica ci auguriamo che la musica i cambi e al più presto ciao 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 ciao